Ciao e bentornati sul nostro canale. Recitiamo insieme la supplica potente alla Vergine del Monte Carmelo, per chiedere una grazia. Ma prima vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. O Maria, Madre del Carmelo, a te consacro tutta la mia vita quale piccolo tributo per le tante grazie e benedizioni, che attraverso le tue mani ho ricevuto da Dio. Tu guardi con particolare benevolenza coloro che indossano il tuo scapolare. Ti supplico perciò di sostenere la mia fragilità con le tue virtù, di illuminare con la tua sapienza le tenebre della mia mente e di accrescere in me la fede, la speranza e la carità, affinché possa ogni giorno renderti il tributo di umile omaggio. Il sacro scapolare richiami su di me gli sguardi tuoi misericordiosi e sia pegno della tua particolare protezione nella lotta quotidiana, sì che possa rimanere fedele al figlio tuo e a te. Il tuo scapolare mi tenga lontano da ogni peccato e mi doni ogni giorno la certezza che tu sei vicino a me e il desiderio di imitare le tue virtù. D'ora in poi cercherò di vivere in suave unione con il tuo spirito e di offrire tutto a Dio per mezzo tuo. O Madre Dilettissima, il tuo indefettibile amore. Facciasi che un giorno sia concesso anche a me, indegno peccatore, di trasformare il tuo scapolare nell'eterna veste nuziale e di abitare con te e con i santi del Carmelo nel regno del figlio tuo. Così sia. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.